C'era anche Vittorio Sgarbi seduto tra i banchi della Giunta nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Cosenza, però in aula non si è parlato di centro storico. Con una inversione dell'ordine del giorno, l'assise presieduta da Pierluigi Caputo, ha prima approvato lo schema di convenzione per la realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la nuova caserma sarà costruita su un terreno in Viale Magna Grecia. Poi si è passati all'atteso punto relativo alle procedure di nomina degli scrutatori in vista del referendum, attraverso un documento proposto da Bianca Rende. Il gruppo della Grande Cosenza ha provato ad introdurre la formula del sorteggio, ma la maggioranza ha deciso di votare un altro ordine del giorno, una raccomandazione alla Commissione elettorale affinché le designazioni seguano criteri di trasparenza, partecipazione e votazione. Tale documento è stato votato anche da Giovanni Ciparone e Francesca Malizia, consiglieri di opposizione del PSE e del nuovo centrodestra. Intanto ci sono state scintille tra il consigliere di Cosenza Libera, Francesco De Cicco, e l'assessore le attività produttive loro edana pastore, vecchie ruggini dovute probabilmente all'esclusione dello stesso De Cicco dall'esecutivo di cui aveva fatto parte nella consigliatura precedente. Salvatore Bruno per la Cineus 24.